E' attesa nella notte l'esondazione del Lago Maggiore sulla passeggiata di Pallanza di fronte al municipio, costante l'aumento del livello del Verbano che ha superato la soglia di guardia al momento in piena ordinaria, atteso l'allagamento della piazza e della camminata nella zona della navigazione, ma non si registrano criticità. Il sindaco Silvia Marchionini nel collegamento in diretta di stamattina nel nostro TG Flash è tornata a parlare di interessi del lago. Due settimane fa con quel sole si ammirava e si scriveva del lago in secca, naturalmente va stata una pioggia abbondante e sicuramente elevata, però resta il tema degli interessi del lago rispetto al Consorzio del Ticino e quindi noi ci opporremo in ogni maniera all'ulteriore innalzamento del livello del lago. Siamo alla Spondaronese del Verbano, anche qui si attende l'esondazione nella notte o nella prima mattina di domani. Il sindaco Alberto Gusmeroli spiega che i quartieri interessati sono Riviera e Santa Monica, vertice tra la giunta e la protezione civile, è stata disposta all'apertura del COC con reperibilità H24 al numero 0322 23 11 31. Chiuse parte delle vie che portano al lago comprese, tra le traverse di Viale Barac e Corso Europa, la polizia locale che presiderà la zona per tutta la notte ha avvisato i residenti con megafono di liberare cantine ai garage e soprattutto di non lasciare le auto parcheggiate. Gusmeroli aggiunge di aver contattato la responsabile della diga della Miorina, la quale gli ha riferito che secondo le loro stime il lago salirà ancora di una quarantina di centimetri dall'attuale livello. Ci spostiamo sul lago d'Orta, dove le acque hanno già invaso la zona dei giardini, all'altezza dell'imbarco dei battelli e della giostrina. Motori di diverse imbarcazioni sott'acqua, chiusura straordinaria della biblioteca comunale a causa di infiltrazioni dal soffitto. Acqua al limite del marciapiede che separa il lago dal parcheggio dell'ospedale Madonna del Popolo. Stiamo monitorando quella zona, spiega il sindaco Paolo Marchioni, e aggiunge che nelle cantine del nosocomio sono già attive le pompe, riflettori puntati anche su lungo lago Buozzi e Gramsci, dove nelle prossime ore potrebbe essere necessario lo svuotamento delle cantine e l'intervento con sacchi di sabbia che già si stanno predisponendo con la protezione civile. Il sindaco spiega che la popolazione è comunque aggiornata attraverso un sistema di alert e in caso di necessità si interverrà con un megafone o con info porta a porta. Uno sguardo anche ai fiumi, non si segnalano problemi sul rio Inferno, sullo strone e sul fiumetta, al momento quello più burrascoso è il rio Pescone. Siamo alla viabilità in ossola, diversi tratti chiusi per allagamento, la provinciale che collega Beura a Cuzzego, la zona del sottopasso all'altezza della Cop, tra Villa e Domo, il sottopasso di Cuzzago a Premosello-Ciovenda, nuove auto danneggiate dai buchi lungo la superstrada dell'Ossola, tra le uscite di Mergozzo e Premosello, direzione nord. Intanto Arba ha nuovamente alzato l'allerta dal livello 1 al livello 2, moderata per le prossime ore, attese nuove piogge anche abbondanti nella notte, in esaurimento nella tarda mattinata, riprenderanno poi nella strada di domani, riaperti i COC. Grazie per la visione! Grazie per la visione!